Io sto da tre anni con un nuovo cattivo, è chiarissimo, e lui si comporta così per un motivo preciso che io ho compreso e decodificato perfettamente. E quale sarebbe secondo lei questo motivo? Farmi del male. L'analista è un lavoro di drammaturgia contemporanea e nasce dall'incontro con una donna, una giovane ragazza che per anni era stata vittima di una serie di abusi emotivi, psicologici, derivanti dall'appartenenza della sua famiglia a una setta religiosa, e da lì mi è venuta voglia di sviluppare, di trattare questo argomento delicato, sensibile, poco noto. E così nasce l'analista, racconta degli abusi emotivi, racconta l'inarcisismo, racconta delle manipolazioni della mente. E' un testo duro, anche se paradossalmente in alcuni momenti è anche brillante, ma questo per scelta proprio di drammaturgia, di regia. Dottore, mi dica la verità, lei pensa che io non sia in grado di controllare la mia mente? Noi ci conosciamo da quasi trent'anni, esatto. Ci conosciamo da quasi trent'anni, addirittura proprio venticinque anni fa abbiamo debuttato insieme, lui il suo primo debutto, con me insieme, con uno spettacolo tratto da Mark Twain, Adam e Deva. E da lì poi, vabbè, è nata un'amicizia strepitosa, noi ci vogliamo bene come fratelli. E in questo momento è il mio regista, è il mio regista e lo ringrazio, ringrazio moltissimo perché mi ha dato la possibilità di fare un ruolo molto complesso, molto bello, difficile, intenso, pieno di emozioni, pieno di ambivalente, dicotomico, uso proprio le parole dello spettacolo. È molto difficile, ma proprio per questo io ho sfidato questa difficoltà con molta, molta passione e anche perché sposo il progetto di Nicola, quello di denunciare cose che di solito tendono a rimanere nascoste. Io e Rossana, quando abbiamo parlato per la prima volta di questo spettacolo, avevamo proprio voglia, in qualche maniera, di lasciare al pubblico qualcosa che potesse non soltanto offrire la possibilità, innescare la possibilità di una riflessione, ma in qualche maniera anche percepire quello che è la veridicità di un'emozione. Ecco, con Rossana ci vogliamo molto bene, ma al di là del bene c'è poi una stima artistica, professionale, molto intensa, molto profonda e questo al pubblico arriva. Ecco, quindi quando il connubio tra lo stare bene insieme come anime, come esseri umani e lo stare bene sul palco, quindi come professionisti, si compie, ecco che in qualche maniera al pubblico arriva come un valore aggiunto. Quindi io sono molto contento, lo sono sia come drammaturgo, come autore dello spettacolo, lo sono come artista, come professionista e chi ha scritto questo testo, ma come regista che lo ha montato, come attore che lo interpreta a fianco a Rossana e quindi è stata una faticaccia perché questi autori contemporanei non dovrebbero proprio, non dovrebbe essere loro permesso di debutare con i loro testi fin quando vivono, però in realtà il teatro contemporaneo ha proprio bisogno in questo momento di manifestarsi, di rappresentarsi e quando i teatri aprono a questo genere di disponibilità e allora per la città è un nutrimento, soprattutto in un momento storico che viene a sua volta da una lunga chiusura. Grazie.